La veterinaria è la branca della medicina, che si occupa della salute e del benessere degli animali o di un allevamento. Un veterinario può anche occuparsi di controllare la qualità dei prodotti, derivanti da un allevamento di un certo tipo di animali. La gran parte dei medici veterinari lavora da libero professionista, in studi, ambulatori, allevamenti o aziende di trasformazione di prodotti di origine animale, oppure senza avere una sede fissa, ma spostandosi da una sede ad un'altra, come ad esempio, per i veterinari dei bovini. Un'altra parte è impiegata, a livello statale nel Servizio Sanitario Nazionale, suddiviso a vari livelli, che fanno capo al Ministero della Salute. Le funzioni principali del veterinario sono la prevenzione e la cura della salute sugli animali domestici o da allevamento, siano essi di piccola o grossa taglia. Si diventa veterinario, con la laurea magistrale in medicina veterinaria e successivamente l'abilitazione alla professione, con iscrizione all'ordine dei veterinari FNOVI, tramite esame di Stato. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Ci si rivolge al medico veterinario, quando si possiede animali domestici o da allevamento, di cui è necessario controllarne lo stato di salute, oppure si ha bisogno di altre prestazioni quali prescrizione di terapie in caso di diagnosi di patologie, controlli igienico-sanitari negli allevamenti, programmi di fecondazione artificiale, controllo di alimenti di origine animale. Osservando il proprio animale domestico, i sintomi da non sottovalutare, per cui chiedere un intervento tempestivo del veterinario sono perdita di appetito, diarrea o vomito, aumento della sete o maggiore produzione di urina, rallentamento delle attività fisiche che può non limitarsi solo all'avanzamento d'età, comparsa di masse, tumefazioni, tosse e affanno persistente. Stai cercando il veterinario specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di uma innovation! Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitari e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di uma innovation! Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!